A Selva di Val Gardene, in uno scenario da favola, l'undicesima edizione della Hero, una delle gare più impegnativi di mountain bike. L'inviato è Massimo Mignanelli. Fatica, difficoltà, adrenalina al massimo. Questa è la Hero, la maratona di mountain bike più dura al mondo che si svolge sulle Dolomiti. È molto dura, sì, speriamo di arrivare in fondo. Quando parti prendi la prima salita, una gran fatica e tutti gli anni dico, ma chi me lo fa fare? Arrivo al traguardo, commossa e dico, non vedo l'ora che sia il prossimo anno. Le sensazioni sono di una ripresa di queste attività che ci mancavano tanto. 3, 2, 1... 3.500 tra atleti ed amatori provenienti da 40 nazioni e 5 continenti. La gran parte sono italiani, per tutti stretti controlli anticorrid. Abbiamo fatto tutti il test antigenico, è stato obbligatorio mantenere la mascherina fino a un minuto alla partenza. Gli accompagnatori e i turisti hanno rispettato le regole del distanziamento sociale e la mascherina. Il percorso come sempre è massacrante, tra dure salite e insiduose riscite. I turisti sono scivolati, non riesco più a risalire, è nessun problema. 4 passi Dolomiti da affrontare, Cardena, Campolongo, Pordoi e Senna. Si sale fino a 2.300 metri ai piedi del ghiacciaio della Marmolata per un disrivello di 4.500 metri. Passando per Corvara, Araba, Canazzei, Campitello di Passa con un traguardo a Selva di Val Gardena. Per la cronaca a Ero è stata vinta da un atleta tedesco tra gli uomini e una biker vituana per le donne. Per la cronaca a Ero è stata vinta da un attore.